Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come edito le mie foto di Instagram per avere un bel feed, per avere il feed tutto uguale, quindi le foto con gli stessi effetti modificate nello stesso modo. Quindi adesso vi metterò un telefono con il mio schermo registrato per farvi vedere proprio tutti i passaggi. Vi lascio in descrizione il link al mio profilo Instagram e mi raccomando andate a seguirmi per vedere il risultato del mio feed. Le foto che modificheremo in questo video le avrò già pubblicate, quindi le potrete già vedere sul mio profilo. Spero che il video vi piaccia e vi sia utile, mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi contenuti. Ciao! Una cosa molto importante per avere una bella foto è una bella composizione, quindi quando scattiamo la foto, qualunque essa sia, dobbiamo cercare di riempire l'inquadratura. Quindi questo è il primo passaggio da fare. Dopodiché andiamo appunto a controllare la foto per vedere se ci sono dei difetti e delle imperfezioni e se ci sono possiamo rimuoverle con l'applicazione Photoshop Fix utilizzando il cerottino, quindi il correttore. Una volta rimosse le piccole imperfezioni della nostra foto, mi raccomando non esagerate con Photoshop perché altrimenti più che una foto corretta diventa un pastrocchio. Io Photoshop lo utilizzo specialmente per le foto che riguardano il bullet journal, quindi se esco un po' fuori con la penna, con il colore, vado a fare questo tipo di correzioni, ma è raro, è veramente molto raro che io corregga delle foto in cui ci sono io o in cui ci sono dei paesaggi perché correggere troppo una foto così vera, così realistica, la rende appunto meno realistica e si capisce che è una foto Photoshopata. Quindi mi raccomando, state attenti nell'utilizzo di Photoshop, non esagerate. Dopodiché andiamo a salvare la foto nel rullino e la andiamo ad aprire in questa applicazione che si chiama KuniCam. Ed ora andiamo a vedere tutte le modifiche che faccio io attraverso questa applicazione. Quindi la prima cosa che vado a fare è inserire il filtro KJ e cliccandoci due volte sopra lo vado a diminuire, quindi vado a diminuire l'intensità di questo filtro e la porto a 66. Dopodiché vado ad inserire il pulviscolo, che sono tutte quelle macchioline bianche che voi vedete sulle foto, e vado ad inserire appunto D1. Inserito il pulviscolo vado poi su Modifica e clicco su Grana. La grana la imposto più o meno a 30, diciamo che vado spesso tra 25 e 30. E poi come ultimo passaggio, sempre su Modifica, vado su Colore e scelgo l'arancione. Cliccandoci due volte posso sempre modificarlo e quindi diminuirlo, e lo porto a 15, giusto per dare un po' più di calore alla mia foto. Tenendo premuto sulla foto potete vedere le modifiche, quindi il prima e dopo. E questo è tutto ciò che faccio in Kunicam, quindi vado a salvare la foto e adesso la vado ad aprire in Preview, per vedere appunto come verrà nel mio feed di Instagram insieme alle altre foto, insieme ai post precedenti. Utilizzo l'applicazione Kunicam e Preview da agosto, e appunto da agosto ho sempre lo stesso filtro, lo stesso stile di editing. Quindi anche cambiando lo sfondo quando faccio delle foto al bullet journal, anche inserendo foto di paesaggi o foto di me, ovviamente tenendo un senso logico, quindi se vado a mettere una foto di me non la butto lì così a caso, ma cerco di fare tre foto differenziate da quelle di prima, tre o sei o nove, insomma cerco di avere un feed armonico. E quindi dicevo, anche cambiando il soggetto della foto, utilizzando lo stesso stile di editing e gli stessi filtri, come potete notare il feed resta comunque bello da guardare, resta comunque armonico. Per inserire la foto su Preview basta cliccare sul pulsante più e prendere appunto la foto dal nostro rullino fotografico, così potete vederla insieme a tutte le altre foto. E questo è tutto ciò che faccio prima di pubblicare un nuovo post su Instagram. Grazie per la visione e a presto!